sono nato in italia e sono rimasto in italia figlio di spagnoli figlio di italiani ah ma nota un nonno una nonna nessuno tutti italiani italiani puro sangue come cavalli puro sangue che mi faccio? come il dati dei cavalli spagnoli crocchese e zeppolesse lasciamo stare ma non è che bella la faina ma quella è la sega elettrica quale faina la faina elettrica vabbè la prossima volta ce la fai tu dal teatro al cinema è fuori nevica è un'opera che avete interpretato brillantemente anche voi dell'antidoto e adesso invece è diventato un film di successo di Vincenzo Salem e arriva anche all'antidoto e si arriva all'antidoto questo grande film di Vincenzo Salem è fuori nevica quale noi abbiamo fatto la commedia che tanti tanti ricorderanno la commedia è fuori nevica di Vincenzo Salem con Emanuele Giammusso Guglielmo Greco e Luigi Licati e la straordinaria partecipazione di Rosario Tandurella però quest'anno non lo proporrete no perché abbiamo il film e il film da oggi al cineteatro antidoto da stasera potete vedere il film grande film di Vincenzo Salem il cineteatro antidoto non si ferma mai c'è sempre grande fermento quindi oltre ad offrire tantissimi film con tutta tranquillità la sala è davvero molto comoda queste cose ricordiamole perché sono importanti c'è anche ecco il foglietto ce lo ricorda il pizzino ce lo ricorda abbiamo gli appuntamenti col teatro importantissimi quando si parte? 26 e 27 con una grandissima opera di Scarpetta l'amico di papà io sono l'amico del papà di Guglielmo che è il figlio dell'amico mio insomma un po' complicata intanto la campagna buonamente è sempre aperta e posti disponibili per quest'anno eccezione abbiamo fatto che per le serate in particolar modo della nostra compagnia teatrale c'è la preventita anche a biglietti singoli quindi ci sono però ricordiamo che ci sono tre turni stavolta l'anno scorso erano soltanto due soltanto insomma erano due quest'anno sono tre perché la richiesta la richiesta c'è stata c'è il turno A che è il mercoledì turno B sono turno B giovedì ore 18 e ore 21.30 in bocca al lupo per tutto grazie tante belle cose e ciao a Burgio che sembra un amico mio e fuori nevica e fuori nevica e invece si sta bene ciao